Grande successo per l'Avellino Under 17 che nella giornata di ieri ha pareggiato per 4-4 contro la Pro Sesta, prodando alle Final Four della fase nazionale che si svolgeranno nelle marche tra Tolentino e Fermo a partire da mercoledì 15 giugno. Dopo l'1-0 maturata l'andata, la squadra di Mister Fabro parte bene nel primo tempo, nonostante una Pro Sesto più aggressiva. Infatti, la squadra bianco-verde, ad inizio gara, subisce le incursioni degli avversari che partono molto bene. Il calcio, si sa, è strano e l'Avellino colpisce subito gli avversari con delle rapide manovre di contropiede. Al secondo del primo tempo, Napolano sblocca la partita, raccogliendo un cross al centro dell'area di rigore, insaccando Tomea che non riesce a intervenire. L'Avellino ci riprova subito con Danna che si divora un gol davanti l'estremo difensore. Sul cambio di gioco, la Pro Sesto reagisce, colpendo con Guerrisi la traversa. Al ventesimo del primo tempo, Rusciano raddoppia per l'Avellino, raccogliendo un ottimo assist in area di rigore servito da Leo Di Martino. La Pro Sesto continua ad attaccare gli Irpini, ma lo scatenato Fusco crea non pochi problemi nella linea difensiva del Lombardi, trovando il gol al trentaseiesimo del primo tempo. La prima frazione di gioco si conclude con il risultato di tre reti a zero, ma nella ripresa succede l'impossibile. L'Avellino scende male in campo, forte delle tre reti di vantaggio. La Pro Sesto al contrario reagisce molto bene, trovando subito il gol con Cotugno al primo minuto che batte la sala. Il blackout continua e al quinto minuto Sant'Abroggio accorce ulteriormente le distanze, portando il risultato sul 3-2. Mister Fabro prova a dare una scossa alla propria squadra, con una serie di innesti per dar freschezza alla squadra, ma ciò non serve perché la Pro Sesto trova il gol del pari a quarantesimo di nuovo con Cotugno. L'Avellino non riesce a reagire, nonostante la squadra sprechi alcune azioni da gol. Mister Angelotti, tecnico della Pro Sesto, sproni suoi consapevoli di poter colpire gli Irpini nei minuti finali. Infatti Sant'Abroggio firma la rete del 3-4, portando gli Irpini ai tempi supplementari. Il Caldafosa si fa sentire sul Parteni e le due squadre nei tempi supplementari calano la propria intensità di gioco. L'Avellino, metodologicamente, mantiene il risultato, cercando di colpire gli avversari in contropiede. Una soluzione efficiente, dato che al tredicesimo e secondo tempo supplementare, Leonardo trova la rete del 4-4, che porta gli Irpini alle semifinali della fase nazionale. Un grande successo per il settore giovanile, che sta raccogliendo ottimi risultati con tutte le sue categorie. Basti pensare che la Cantera ha ottenuto due ottimi successi, vincendo la settimana scorsa il torneo giovanile tenuti su Grotta Minarda, conferma dell'ottimo lavoro svolto dai responsabili e dai tecnici del progetto JUT e Cantera.